andiamo 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 a camper ok ragazzi quindi modalità uplink cioè dove basket dove una modalità che fosse in guerra non esisterà mai dove noi avremo una palla dovremmo cercare di lanciarla all'interno di una specie di non lo so tondino abbiamo una palla dobbiamo lanciarla il nemico deve cercare di proteggere il suo canestro è tipo basket è vero poi o lanciarla oppure andarci dentro però non abbiamo ancora capito come funziona il punto quando la prendi non puoi usare armi e tu picchi la gente con quella palla un'arma normale non esageriamo arma normale ok ora la carabina anti anti pantegane è una scaccia cani scaccia cani che spara proiettili di gomma va bene ci servirebbero antiproiettili capirci qualcosa di questo fucile dove è il coso eccolo qua no dov'è la palla merda la palla ce l'hai tu ce l'hai tu ce l'hai aspetta non c'era un nostro alleato ce l'ha un nostro aspetta aspetta cazzo sbagliato ce l'ho mio alleato si devi cambiare squadra cazzo che sei tu c'è già fatto gol bravo tu sbaglia squadra anche un bravo tu sbagli tutto sei cosa ho fatto vado tra bene anche sei cosa ho fatto io ho lanciato allora avevo visto uno gli ho lanciato questo il c4 che in faccia mi ha guardato come ciò sei stupido ma buona troia fatto la prendo io lo prendo io prendo io non vedo io c'ho la mitraglia da pronta però mi piace strani strabile stra stabile nel culo ok adesso casa base dove la casa base dove la casa base prima che c'è da con la spazio ormai spazio ormai spazio ok deve fare spiderman uguale 6 a 6 a 6 vai 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 che non mi cagano neanche bene bene fallo per me fallo per dio sì di un solo punto no più di sanda più distante lo fai e più di dan punti o cioè io ce l'ho io intero io mangio lo farò per dio lo farò per il sole cazzo e si mi ha mitragliato una di qui non passa nessuno perché ci sono io aspetta e sto camperando troie ma non uccide neanche niente stamcava robina di merda scacciacani fa solo il suono per spaventare i ladri appunto la salve vedi il danno e ti dice spara salve non fa danni in the space la pistola spaventa gli alieni e basta non è che gli ammazzi aspetta aspetta sta arrivando uno e si vmp questa qua mi ha mi ha soddisfatto un po la rabbia tu muori fatemi spawnare dai fatemi spawnare azione coordinata e sono dietro di te gioiosa cooperazione fermo e pensa pensa è una piazza piena di amici che faccio vado dentro a farmi uccidere pure cosa farebbe misteri di schifo po insomma è che bravo 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 oh mio dio o zio pio avanti andiamo a prendere con l'app link strategia per un minimo di strategia non andare al massacro come una troca se è fortunato che nella strategia dopo prende l'altro lato e son morto bravo ci hanno isolato l'app link mi sa cos'è stato abbiamo perso sì ma come non ho capito vedete l'ultima kill su di stato ha fatto dieci deve fare dieci si hai voglia oh my god 360 qui scopro oh my god no qua devo cambiare l'arma perché fa schifo ah dobbiamo essere impossibile dobbiamo battere nei minor tempi di fare ancora meno tempo vabbè dai tu vabbè c'è qui l'app link scorda scorda mi scorda il mio culo scorda me io parlo come il russo ah lancia lontano perdi qua lancia lontano lancia lontano eh ma se lo manco sai che merda se lo manchi lo vai a riprendere oh per dio io sto guardando la tua schermata sono andato a finire adosso un muro ce la posso fare ce la posso fare no perché l'ho lanciata c'è una mina di merda anche a basket il suono della disperazione quando devo tenerla ma quando devo il suono della disperazione di mister l nooo no mio dio ho l'app link con diverse tonalità io ancora vivo col bastardo ma come ha fatto con diverse tonalità nooo lo mettiamo come suoneria tu vivi tu muori ah ma vaffanculo ah c'è una puttana lo dal sole lo dal sole proteggi l'app link ah è il nostro proteggi l'app link come se fosse la tua famiglia non ho una famiglia sono orfano oh mio dio si è bugato quello con l'app link si è bugato bene ora lo recupero io lo recupero io non faglielo sapere non faglielo sapere che si è bugato mi è arrivato un brettile sullo schieno ok ah ci sei anche te ok S S S si stanno baggando tutti quanti in un punto ah come si chiama uno stupro che viene perché è fatto dai bot stuprot contento che ci stanno letteralmente stuprando muori badracca oh su cammelo su cammelo anche te anche se sei un robot e non hai la bocca anche te vado a prendere la link a non ira su USB ooooh ma dai non è la gente che un laplink diventa più resistente anche ma sarebbe sensato come hai fatto a farci uccidere così? non lo so cioè il motivo che ti sei fatto uccidere è volgare prenderò la link mi ritirerò vado su qua vado per lì là lo uccido sparando a caso colpo alla testa ho fatto direttura oh mio dio ragazzi non mi stanno prendendo la mia unica possibilità è quella di spararla il più lontano possibile eeeh in culo bevo laiii ma vaffanculo fammi fallisce miseramente aspetta vedi vedi la disperazione di Mr.Rale là in fondo guardatelo quando cerca di cerca di ribare il suo errore va là è morto no 1 a 16 oh cos'è sta roba proviamo a rifarlo ok si stanno perculandosi cioè no cioè letteralmente cioè sono in 12 due tango per me le bracche mi fate che sono in 12 e fanno quel che vogliono chi è questo perciò cantamani ah sei tu non fa niente vado subito a recuperare l'appling come se fosse l'ultima copia di undertale no no peccato che undertale non lo vedono non lo vedono no peccato che undertale lo vogliono anche gli altri vieni qua vieni qua vieni qua vieni me l'hanno trollato me l'hanno figlio di puttana tu non arriverai a destinazione bene prendilo prendilo io proteggo come l'hanno fatto cioè ahhh ti prendo il curo no 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 stavo scappato morto ok ho bisogno di una granata fottuta chi ha l'appling? non lo so occhio che hanno l'appling l'appling eccolo la eccolo la che ce l'ha? non lo so nooo l'hanno consegnato bastardo l'hanno consegnato quanti putti? oh non capisco un cazzo ah ti hanno due punti se li salti dentro quindi tanto vale non mi puoi colpire quando fuci da cechino così vicino vai a recuperare subitissimamente eh sta venendo la Dio santi serrime è nato in culo che ho in non è un suo po' troppo difficile noi siamo sono già quattro bisogna seguire il segnale dell'applink dove mi sto perdendo comunque il cicetto giro intorno ecco la eeeh si mi sono sporto un attimo sono già sei sono già sei sai quale sarebbe la tattica? uno va ogni volta a cercare di mettere la eccolo la e uno camper che ne pensi? si ma che calma ma lasciateci respirare porca puttana botte di merda ok io sto campionando qua non si avvicineranno mai ah è esploso yeah oh mio dio all'applink all'applink perché l'applink corri 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 no 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 lancia granate di merda proteggimi dove sei? ho bisogno di protezione ho bisogno di un adulto io ti ho bisogno proteggimi oh mio dio oh mio dio posso farcela cambia cambia dai sto arrivando sto arrivando sto arrivando sto arrivando non preoccuparti non preoccuparti ci sono io a proteggerti io porterò a compimento la tua missione si ci ho fatto si un punto morto ok prendo l'applink mi ha sparato con l'antragrana con il ciclo l'antragrana ok camper a camper io vado a camperare guarda la tattica vai a camperare così loro ci portano l'applink in mano praticamente poi ce lo danno tu tieni tieni l'applink tu te lo dai mano sta fermo occhio 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 nooo bastardo basta avete fatto ma se io a qualcuno tutti voi troie sono più resistenti con l'applink da preso vai mi ti seguo seguimi come se fossi Sasha Gray qui dentro mi da protezione gli spazio chiuso spazio chiuso uguale protezione vaffanculo spazio chiuso non muoviti coglione nooo ma sei un testa di cazzo vaffanculo o ok io beh lo prende va lo scoperto lo scoperto va lo scoperto no non c'è niente da ridere c'è disperazione qua ammette le palle determinazione o di un po di coglioni sto con occhio sta scappando mio 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 vai vai una mia oh il cielo ti ha visto ci ho visto esplodere ti ho visto tutto una mia cioè ti hanno sparato il conto di tutto guarda guarda eccolo la eccolo la eccolo cazzo una mia ma non il titolo è che il papà non si è capito un calcio mod io che voglio per il pericolo percorrere da parte per la parte apposta ma c'è barco in normandigano sbaraglia come dei cricetti per vedere dei cricetti che vedrà un api la stessa roba ok cappella 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 da dove quanti sono? quanti sono? no 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 ah non riesco a usciderlo se non è già andato è qui vicino sarà mio l'hanno ciullato l'hanno ciullato oh ma figlio della merda ti ho sparato così tante volte che puttana tua mamma ti ha ucciso per le prossime sei vite e non è morto ma con l'appling che ho notato sono resistenti stiamo facendo schifo ragazzi quindi non comprate con love duty ok passa qui davanti a me è qua è qua è qua ce l'ho io ce l'ho io ti copro io ti copro io ti copro vai 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 ma lo spider mi invocco non fare le robe epiche sono inutili tipo fare le robe sono reali no 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 perché non corre perché l'hai fatto? ero lì davanti cazzo ero lì davanti ma se non lo manco ti ho detto di non fare le robe epiche anche spararlo anche spararlo non le fare non si riesce a mirare bene questo coso oh mio dio ora ora tu bruci ho ripigliato l'appling posso non morire posso riuscire a farcela under te ne insegna di essere determinati io sono determinato io boh no a piani gente ne vedo determinazione ma puttani ti ucciderò un milione di volte città i boi bot aspetta io boh eh pezzo di merda volevi scappare no 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 io con lo dito non ci gioco più eh io io ci rinuncio questo gioco mi fa cagare l'ho ucciso l'ho ucciso ce l'ho ce l'ho ce l'ho mi serve copertura e emotivazione vai io ti lancio puoi faccia vai chris sei tutti noi oh l'ho tirato un pugnato è morto fermo sono con te ma dove cazzo vai dove sei sono con te vai vai l'ho ucciso io fallo per me l'ho ucciso no fallo per me fallo per me te uccisi tre con l'appling no 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 sei quanti ne uccisi con l'appling tre appugni aspetta assad squad assieme io con il blancio a fiamme ora brucio tutti troie ha sbagliato troie 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 squadra suicida povero ci mandano al massacra intanto guarda il culo intanto che corri ah yeah sai cosa volevo fare sai che volevo fare volevo suicidarli buttandomi il c4 sui piedi non ho avuto il tempo neanche di far quello va bene sti bot di merda 18 a 2 2 a 20 ma non sono i bot a essere forti e sono tutti deficienti e che sono in 12 contro 2 facciamo la di mortal kombat poi la finiamo qua con i gameplay mortal kombat stai facendo su serio? ho imparato a controllare la mia madonna 20 a 2 è come dire i bot ci aspettavano già con i pantaloni calati proprio dai che siamo pronti guarda che si vanta guarda che si vantano guarda non siete altro che un software inanimato figli della merda non siete dei pixel non avete un'essenza l'onore essenza è linux ma devo che metto la canzone di Gabe in modo che tutti quanti possano sentirti e manda il messaggio dai no ti prego finiamo qua gameplay ok finiamola qui ciao a tutti grazie a tutti